Presidente, il perché di questo conferimento del premio Le Grandi Guglie della Grande Milano a Flavio Caroli indubbiamente sta nella motivazione profonda. Beh, non è stato facile trovare le parole adatte per un grande storico dell'arte. Cominciamo a dire che oggi abbiamo presentato, con gli occhi dei maestri, che è il quarantesimo libro di Flavio Caroli e che, a mio avviso, è il più bello, il più emotivamente coinvolgente. Ma il premio Le Grandi Guglie della Grande Milano va a questo Ravennati di nascita milanese di adozione, ma universale nell'azione, che attraverso la linea dell'introspezione ha proprio saputo conferire il carattere distintivo al pensiero dell'arte occidentale. E quindi noi abbiamo definito nella nostra motivazione Flavio Caroli, l'attuale maestro, il più grande passeur di un'elevatissima cultura che generosamente continua ad elargire con sorriso ed eloquenza, così come l'abbiamo visto questa sera alla Grande Milano. Diciamo anche che Flavio Caroli si è detto commosso, emozionato e orgoglioso di questo premio, così come del resto l'assessore del Corno ha detto che il Centro Studi Grande Milano non è un facilitatore di cultura, è un protagonista della cultura e quindi di questa dote importante che continua a comunicare in una Grande Milano, dedicata non solo ai milanesi, è un riconoscimento grande di un lavoro che voi come Centro Studi avete sempre fatto e continuate a fare. Sono felice perché noi abbiamo iniziato 15 anni fa come catalizzatori, essere oggi protagonisti è certamente un grande percorso, anche di grande sacrificio, ma soprattutto di grande entusiasmo per questa splendida città che noi desideriamo e vogliamo più grande.